Sono d'accordo su Alberto sulla tempistica, sbagliata, aggiungo una cosa che secondo me è sbagliato il mio amico Roberto Mancini che è la modalità di comunicazione. In questo paese si considera troppo poco il potere della comunicazione e lui non ce l'ha avuto, perché secondo me la tempistica e la modalità hanno rivelato in maniera sbagliata un problema che Mancini aveva con la federazione da tempo, con Gravina. Quindi tempistica, sbagliata, modalità di comunicazione. Non dimentichiamo che prima degli attacchi che Roberto ha avuto dalla stampa Roberto si era congedato con un post Instagram di otto righe dove ringraziava tutti, amore d'accordo con tutti e non è vero, perché non era così. Roberto era insoddisfatto del rapporto con Gravina perché stando a quello che dice Roberto, Gravina gli diceva tu sei il coordinatore ma in realtà ti metto tutti i miei uomini, perché questo poi è uscito. Allora dato che secondo me questa cosa c'era già da un po' di tempo, allora io dico o la storia finisce dopo il mondiale oppure è inutile iniziare un percorso che ti porti dentro senza fare comunicazione. Tu alleni tutti gli italiani e l'onatore che allena gli italiani deve comunicare i vari passaggi e i vari momenti perché se no ci si porta dentro una frustrazione che poi esplode nel momento peggiore e non andare avanti e poi pian pianino arrivare a scoperchiare tutto adesso che dobbiamo giocarci già la vita.